Riprende Sportlife? Riprende Sportlife, ma noi come al solito vi proponiamo sempre il meglio, ma anche i gol di quello che accade sui campi. 3-3 il risultato tra Davoli e Bovelnese, una partita sicuramente bella sotto l'aspetto spettacolare dei gol, ma sicuramente da un Davoli da rivedere. Noi partiamo subito con il gol, lo vedete, state vedendo, al 10 minuto è Fran Martino che riesce appunto da solo in aria a mettere alle spalle di Galeano. Per il pareggio bisogna aspettare il 17esimo perché c'è una bella punizione di Gullà, riesce ad oltrepassare la barriera e a stamparsi, possiamo dire, di poco sotto la traversa e finire in gol. 1-1 si va ancora avanti, poi c'è un delizioso trissi, possiamo dire, di passaggi perché il pallone, lo state vedendo, è di Papaleo. Papaleo sfrutta la profondità consegnando la sfera a Crispino, poi per Crispino l'assist è facile. Su Gregorani c'è il gol del 2-1. Andiamo avanti ancora con l'altra bella marcatura. Alla mezz'ora possiamo dire del primo tempo è Gullà che riesce a mettere in gol perché c'è questo pasticcio, possiamo dire, della difesa, anzi del portiere prima Cardile, poi di Gligoria il numero 5 della Bovalnese e riesce il 3-1 alla Davoli. Nella ripresa, immagini che si riferiscono appunto al secondo tempo, Maviglia riesce praticamente ad accorciare il risultato. Poi il 3-3 c'è il numero 18 piccolo che riesce a portare in parità le sorti dell'incontro. Noi abbiamo un giro di interviste, partiamo proprio con il tecnico Frasca della Bovalnese. I punti, a differenza di Montepone, oggi i punti avremmo vinto noi. Abbiamo creato tantissimo, i primi 20 minuti avevamo giocato benissimo, poi c'è stato un infortunio, una punizione assurda. Abbiamo preso gol, poi la squadra si è disunita. C'è stato un altro errore di un esordiente quest'anno, è la prima volta che gioca, ha sbagliato la diagonale, ha permesso al sette loro di fare gol e poi un infortunio del portiere purtroppo ci è costato il 3-1. Però da lì si può dire che loro si sono, non so se volutamente, oppure siamo stati bravi noi, non ci hanno creato più niente, abbiamo giocato solo noi. Infatti al secondo tempo penso che se ne abbiamo fatti due, ne potevamo fare altri, però purtroppo... Ecco, allora parliamo di quello. Abbiamo pareggiato. No, diciamo invece quali sono i meriti della Bovalonese anche in chiave campionato. Questa squadra, la giovane, a cosa può ambire poi in effetti? Intanto si deve crescere, si deve crescere. Oggi hanno dimostrato una reazione, a Montepaone non c'era stata, parlando non meno a Montepaone perché sono le due trasferte che abbiamo fatto fino adesso. A Montepaone la reazione non c'era stata per niente, oggi invece c'è stata e io sono contentissimo di quello che hanno fatto. Al di là degli errori individuali, di qualche disattenzione, però ci può stare, l'errore del portiere ci può stare. È un giovanissimo, purtroppo si sa che con i giovani c'è croce, c'è delizio. Purtroppo oggi ha fatto un errore incredibile. Vuole parlare anche di qualcuno degli ex, ma anche del veterano, Crieco, perché praticamente poi ci sono stati anche i giocatori che hanno fatto la differenza. Anche la voglia di riscatto di Maviglia mi sembra che vi abbia ripagato. Io non so come giocava qua, se era una voglia di riscatto. Io ho visto che l'hanno accolto in maniera bellissima, l'hanno salutato in tanti, quindi vuol dire che ha lasciato un buon ricordo. Con me si sta allenando per la prima volta del 6 agosto, lo trovo un ragazzo serio, voglioso, un buon giocatore. Per me è un buon giocatore, quindi penso che ha solo da migliorare. In casa del Davoli invece si fa autocritica. Come si dice in gergo, si leccano le ferite perché il Davoli ha sciupato, non è stato all'altezza, non ha praticamente, come suol dirsi, avuto un buon approccio alla partita eloquente. Il tecnico Scorrano che sentiamo per Sport Life. Siamo stati in campo nel secondo tempo in maniera sbagliata, perché abbiamo concesso troppo a loro, non attaccavamo più, eravamo lunghi, non salivamo più. In molte occasioni io gli gridavo di attaccare e di stare in pressione, come prendevano palla, subito di attaccarle e non farle girare. Invece loro che facevano, non attaccavano, facevano girare, ci puntavano e creavano la proprietà numerica. Questo non lo devi concedere, non esiste. Qua c'è da lavorare tanto, io lo sapevo, non è che mi nascondo. Era un'occasione importante perché tu così oggi facevi la prima vittoria. Vi dico la verità, pensavo pure di perderla per come il secondo tempo si era messa la partita e per come i ragazzi poi si sono demoralizzati. Io sono rimasto un po' male per il fatto che forse si è peccato un po' di personalità alla fine, da metà secondo tempo. Però c'è, come ho detto prima, la squadra è giovane, c'è da lavorare, c'è qualche cosa che va aggiustato, anche singolarmente, però qua in settimana poi lavoreremo. Sappiamo che la squadra quest'anno si è puntata su una squadra giovane, su un gruppo giovane che c'è da crescere, come hanno fatto il primo tempo. Se loro ci credono su come si deve giocare, è bene, altrimenti sarà dura. Però io sono convinto che lavorando con intensità giusta si riesce a fare remoccioli, qualche vittoria importante. È ovvio che bisogna anche cambiare rotta perché è sempre una cosa stranissima. Un portiere che prende tre gol, poi alla fine il portiere riesce anche ad essere il miglior in campo perché salva anche il risultato. Davvero com'è una partita? E' così, noi abbiamo smesso di giocare, questo è stato, perché noi dobbiamo continuare a giocare. Io ho sempre detto che la nostra squadra non è una squadra che può fare guerra e giocare palla lunga perché diciamo la verità che è uscito pure Papaleo, che era uno che teneva palla, dava più profondità e quando è uscito Papaleo, poi Graziano era solo, però abbiamo smesso di giocare, questo è stato il problema. Come ho detto prima, non attaccavamo più alti, li aspettavamo nella nostra metà campo, non esiste. Non esiste, noi si deve continuare a giocare, aggredire alti e basta. Comunque, io sono tranquillo, c'è da lavorare tanto e lavoreremo tanto. Si sapeva che è un campionato difficile questo. Comunque, io sono tranquillo, c'è da lavorare tanto e lavoreremo tanto.